Il sottosuolo dell'ex area mineraria di Avriglia non nascondeva tra depositi di sabbia e argilla solo la lignite. Al suo interno erano rimasti intrappolati anche fossili di animali, di foglie e di semi. Inoltre bisogna aggiungere che tutto il Valdarno è ricco di depositi fossiliferi e molte sono le aree dove reperti più o meno antichi sono venuti alla luce nel corso dei secoli. Il motivo per cui il Valdarno è ricco di fossili va ricercato soprattutto nella composizione del terreno, ma vi sono anche altri fattori che hanno portato alla creazione di fossili, uno su tutti il clima. Infatti tre milioni di anni fa era presente un clima caldo e umido che ha permesso la creazione di un habitat con rigogliosa vegetazione adatta alla vita dei grandi mammiferi che oggi fanno una bella mostra di sé nei musei. Nella prima fase sedimentaria, riferibile proprio al bacino di Castrenuovo dei sabbioni, quella che poi ha dato vita alla lignite, erano presenti piante come il cinomombo, il platanus, il laurus, mentre tra gli animali che vivevano nei pressi del lago era presente il leptopos, l'anancus, il tapirus. Alcuni di questi, tra le piante e gli animali, si sono estinti, mentre altri come il tapiro vivono ancora oggi nell'area della fascia equatoriale. I fossili del bacino di Castelnuovo dei sabbioni non sono stati ritrovati nel giacimento lignitifero, pressoché sterile, ma nelle argile di copertura depositate all'incirca due milioni e mezzo di anni fa. Lo studio sui fossili vegetali in Italia non ha mai avuto una grande attenzione. Dopo un iniziale interessamento allo studio dei resti vegetali fossilizzati, filliti, risolente alla fine del XVIII secolo, si è dovuto attendere la metà del Novecento e gli studi paleoneologici per la caratterizzazione pala abbiattale del Valdarno, con i primi pianeristici studi di Marcucci e Foglieri. Ad occuparsi per primo di uno studio paleobotanico, che per l'epoca possiamo definire sistematico, fu il fiorentino Giovanni Targioni Sozzetti, medico e naturalista italiano. I reperti che collezionò nei suoi viaggi di studio condotti anche nel bacino lignitifero di Cavriglia, confluirono nelle collezioni del Museo di Storia Naturale di Fiero Antonio Micheli, suo maestro, oggi conservati nel Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze. Targioni Sozzetti non si limitò ad una semplice descrizione dei reperti, impronte e frammenti di foglie, di frutti e di legni, ma cercò di aggiungere alle sue dettagliate descrizioni di caratteri stratigrafico e paleografico, ipotesi e soluzioni interpretative. Iniziò così a farsi strada l'idea che quei reperti fossero veramente molto antichi. L'interesse suscitato dai suoi studi richiamò in Valdarno altri due uomini di scienza, Carlo Strozzi e Charles Gauden, i quali concordarono con le interpretazioni di Targioni Sozzetti, che aveva individuato tra le foglie fossili alberi non più presenti nell'aria, ma associabili a piante affini a ebani e sandali. Pubblicarono così una monografia nella quale segnalarono questa diversità tra le piante che abitavano in Valdarno e quelle rinvenute nei depositi di argilla. Tra gli studiosi divenne chiaro che molti anni prima il clima era diverso. Anche loro campioni oggi fanno parte delle collezioni di paleoflore ospitate presso il Museo di Storia Naturale di Firenze. Altri filliti raccolte alla fine dell'Ottocento nelle cave di Montetermini, calvi, casini e gragnoli, situati ad est e dovest dell'odierno lago di Castelnuovo, fanno bella mostra di sé al Museo Paleontologico di Montevarchi. Accanto alle piante fossili, anche le osse dei giganteschi animali proponevano agli scienziati della Terra un secondo grande rompecato, riguardante soprattutto il momento in cui questi animali avevano vissuto sul pianeta. Oggi sappiamo che questi animali erano presenti sul suolo valdarnese molto prima della comparsa dell'uomo, ma ci sono voluti anni e studi per capire che gli elefanti rinvenuti non erano quelli che aveva condotto Annibale in Italia e che la conformazione scheletrica non corrispondeva del tutto a quella degli odierni proposcidati. Ancora una volta il primo a ipotizzare una differente datazione fu Torjoni Tozzetti, che riuscì a dare avvio, grazie alle sue affermazioni, a studi paleontologici e a richiamare a Firenze studiosi di fama internazionale, che si occupavano dello studio dei resti animali. Uno di questi fu Georges Gouvier, al quale va il merito di aver rinnovato l'interesse per i vertebrati fossili del valdarno. I resti rinvenuti in valdarno, oltre a comporre parte del Museo Paleontologico di Montevarchi, sono arrivati anche a Firenze, con la prima collezione creata dal Granduca Ferdinando II. Oggi la parte più cospicuta della sezione dei vertebrati del plio Pleistocene, conservati a Firenze, proviene dal valdarno. Si va dai mastodonti, come l'Anancus arvenensis, ad animali più piccoli, come la tinca vulgaris, pesce cipriniforme ed acqua dolce. L'importanza dei fossili rinvenuti nell'area di cavriglia, sia animali che vegetali, non è di certo secondario, come si può capire da questo breve scursus. Oltre ad essere ben conservati e interessanti da vedere, anche per chi non è addetto ai lavori, hanno infatti permesso la ricostruzione paleoambientale del valdarno e hanno contribuito a dare avvio a tante tipologie di studi che hanno ampliato le conoscenze di paleontologia e paleobotanica, non solo a livello nazionale.